ANSA, Roma, 3 gennaio, l'alto numero degli accessi, per le parlamentarie 5 metri S ha provocato rallentamenti e difficoltà, per le operazioni di autocandidatura tanto che il movimento ha deciso di prorogare fino alle 17 di oggi, il termine che è appena scaduto. L'annuncio della proroga arriva dal 5 metri S sul blog dove si commenta, le parlamentarie sono un successo. Tantissime persone stanno partecipando a questa prova di democrazia, del 5 metri S unica forza politica che si apre alle persone di buona volontà e le fa votare dai suoi iscritti e non dai capi di partito?